eccoci qui appena tornato della partita su tutto letteralmente sul fatto era piedi tu qui c'è sembra parli su terrestri comunque parlando della partita c'è un niente da dire ai ragazzi e hanno giocato solo noi altri si può dire loro hanno fatto un tiro in gol e 3 e altri 3 che erano con loro ovviamente parlò degli altri porca troia che tanto tu qui ogni volta è sempre la solita storia porca troia appena vedono che cadavano un po la testa in su ma lei arriva l'ammazzata tra capo e collo che ci ammazza da tutti ma questo succede da tantissimi anni ormai che campammo da quando c'era brigante mi ricordo che disse nella trasmissione che ci vuole rispetto porca troia ci vuole rispetto porca puttana ci vuole rispetto per tutti io non voglio nessun favoritismo ma voglio vedere una partita regolare in campo quello che non succede quasi mai in casa perché mandano arbitri alla prima esperienza porca troia e guarda caso li mandano sempre a gubbio porca troia io mi sono stufato porca troia c'è ghirelli che è de gubbio ma de gubbio non ha niente a mio parere perché non gli interessa un cazzo di niente onestamente e tu qui secondo me è ora di mettere la vara anche in sedeci perché insieme i fesci dei prefissionisti e dico per tutti non solo per il gubbio ovviamente porca troia perché ogni volta che vai allo stadio ti incazzi come una bestia porca troia e non è il verso questo e non parlo assolutamente della squadra perché oggi la squadra non c'è niente da dire solo applausi ho visto gente estremata a fine partita hanno dato tutto porca troia e per via questi arbitracci uno un po le fa una vittoria che per carità dopo abbiamo fatto tantissime occasioni ma c'è manca purtroppo uno fisico che che scusa fisicamente onestamente però abbiamo fatto il più che potremmo far oggi perché arbitro proprio indegno le destra non solo in serie c ma anche in serie d non potreste parere porca troia poi per venire espulso il mister torrente che secondo me da quando era con noi anche in passato ne ha mai stato espulso ovviamente qualcosa non è andato per il verso giusto porca troia ma tu qui tanto riceverò un mucchio di insulti da fare paura a me non me ne frega un cazzo perché quando dico quando vedo le cose non giuste porca troia mi sale il sangue al cervello onestamente c'era quello che sta attenti insomma lo stuartori ha detto pessima cosa pessimi arbitri pessimi imbarazzanti e beh io ho detto ma purtroppo noi altri da quando c'era il caso farina quindi figuriamoci quanti anni hanno 7 8 anni che lottiamo contro gli arbitri gli ho detto e quindi purtroppo questo è c'è niente da fare comunque parlando del rubio è stata una serie da forse è molto sbagliato solo i primi 10 minuti che abbiamo subito quel gol scemo onestamente perché loro non hanno un gioco di niente sono indecorosi mi dispiace dirlo ma siete indecorosi e siete vergognosi porca troia perché siete di un'antisportività assurda porca troia facci complimenti adesso ancora di più a quelli del vicenza perché hanno una tifoseria da elogiare porca troia invece questi per carità ma vabbè che c'è la rivalità ci starebbe anche mamma mia c'è una squadra che vi vedo molto molto male a meno che non fate come il cesena che se compra gli arbitri come oggi porca troia e niente come l'anno dei singoli ottima prestazione decinaia che da 5 6 partite sta ritornando davvero in forma onestamente davvero in ottima forma cazzo sembrava adriano dei tempi d'oro dei tempi d'oro lasciamo perdere adriano dei tempi dei ultimi tempi parlo del 2005 del gol contro l'udinese mamma mia comunque era giusto per fare un paragonico sì anche se col luolo non c'entra proprio niente comunque forse uno dei pochi che non mi è piaciuto è stato con atti che gioca con una svoiatezza ragazzi che sarebbero a prenderlo a sberlone onestamente comunque non c'è niente da dire a questi ragazzi che oggi hanno dato davvero tutto 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 li abbiamo sotterrati porca troia hanno pareggiato non c'è sa come perché se li mi avete al campo siamo sotterrati su tutti gli ambiti per quanto è impresa anche una traversa ce li dice manco bene onestamente quindi siamo stati alquanto sfortunati oggi c'è niente da dire cazzo e niente nient'altro da dire appuntamento alla prossima che credo sarà controllare già una partita tosta ma come ha detto col vicenza ci proveremo a tutto il più perderemo comunque vedo che la squadra è in fiducia gioca bene tutti uniti cazzo grinta fino al 95esimo e oltre e niente appuntamento alla prossima e sempre 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 forza guppio e lega italiana figli di puttana porca pittana